Coach Flavio Priulla, decima vittoria consecutiva, quella colta sabato a San Filippo del Mela che attesta la Eagles come una delle squadre sicuramente più in forma del momento, secondo posto archiviato matematicamente per i play-off. Che momento è stato e che partita è stata? È stata una partita, dal nostro punto di vista è stata un'ottima partita, nonostante i problemi che abbiamo avuto all'interno della stessa perché a metà del secondo quarto abbiamo perso l'Istuon per un piccolo infortunio al ginocchio che dagli esami fatti oggi non risulta niente di grave, quindi abbiamo dovuto giocare in sé con rotazioni molto strevenzite. La squadra ha risposto veramente bene, ha fatto un'ottima partita, intelligente, molto tattica. Alla fine abbiamo segnato 90 punti fuori casa che è un ottimo risultato e soprattutto dal punto di vista difensivo abbiamo tenuto una stessa avversaria attorno ai 65 punti. Quindi per noi è stata sicuramente una partita molto positiva che appunto, come ha detto Deci, ha regalato il secondo posto matematico che era il primo obiettivo della stagione, cioè era quello di raggiungere le prime due posizioni il prima possibile per poter avere nei turni dei play-off l'eventuale belle in casa. Speravi, ti aspettavi che la squadra reagisse nel momento di difficoltà, anche delle partenze nel modo migliore mettendo tutto in campo, riuscendo a fare questa striscia di vittorie consecutive che non si fa dall'oggi al domani? La squadra dall'inizio del campionato fino ad adesso è cresciuta tantissimo e nonostante le defezioni del mese di gennaio, paradossalmente si è unita molto, ha fatto ancora più gruppo lavorano con grande intensità e tutto ciò si vede durante le partite un allenatore a vedere giocare la sua squadra in questa maniera, con questa compattezza, con questa solidità non può che essere contento, quindi un grande applauso ai ragazzi che stanno dando tantissimo e che stanno crescendo in maniera veramente esponenziale. Mancano tre partite alla fine della stagione regolare, poi saranno play-off le prossime due sono fondamentali perché giocheremo qui in casa al Palazzo della Chiesa dal quale ovviamente ti aspetti un apporto del pubblico che deve essere importante dopo 10 vittorie consecutive, Bagheria può godersi di questa squadra tra l'altro con ingresso gratuito e quanto è importante vincere queste due? Arriva subito Agatirno che probabilmente dopo Eagles classifica la mano nel generale di ritorno è seconda e Eagles invece è prima in classifica solo per i punti di ritorno. Fondamentale, importante per noi sono sempre tutte le partite perché ci permettono comunque di continuare a crescere, di continuare ad acquisire fiducia, soprattutto domenica giochiamo appunto come ha detto Decon, una squadra che è in forma, ricca di talento e che io credo che sia tra virgolette la squadra da evitare nei play-off perché è molto lunga anche se giovane con giocatori di talento quindi per noi sarà un test molto probante è ovvio che non abbiamo più la pressione di dover inseguire quei punti che ci permettano di raggiungere il nostro primo obiettivo stagionale però abbiamo la pressione di metterci continuamente in gioco di continuare a dare dei segnali al campionato e soprattutto di, tra virgolette, vendicare l'ultima sconfitta che abbiamo fatto fuori casa nel giro d'andata. Per chiudere, qual è la caratteristica principale di questo gruppo? Vediamo che dopo ogni vittoria di queste dieci consecutive c'è sempre quel selfie, non è lo spogliatoio, a quale partecipi anche tu è uno spogliatoio davvero molto molto unito? Sì, è diventato quasi una routine a cui piacevole partecipare ed è sinonimo di un gruppo molto, come ho detto già prima, molto affiatato molto unito, che ha la voglia di stare insieme, di divertirsi soprattutto in campo, quindi questi sono dei piccoli segnali che fanno sì che ti fanno capire l'importanza di essere gruppo vogliamo continuare a fare selfie ma li faremo anche se non arriva la vittoria perché appunto è una parte goliardica del nostro stare insieme E poi è tornata anche la barba come l'anno scorso? Sì, perché fa freddo e quindi è cresciuto un po' di più diciamo che fa freddo Grazie Grazie Grazie